Buon pomeriggio, proseguiamo con questa lunga carrellata di interventi nella notte dei ricercatori dell'Università Campus Biomedico di Roma e lo facciamo passando adesso a un altro argomento che è la resilienza nei cambiamenti climatici e sicurezza alimentare. Un tema che ci tocca tutti da vicino, che ha a che fare anche con quelli che sono gli obiettivi al 2030 dell'ONU sul sviluppo sostenibile e che sono il cuore delle attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente dell'Università Campus Biomedico di Roma. Lo facciamo con due contributi estremamente interessanti e attuali, con Sara Cimini che è ricercatrice in Biologia Vegetale dell'Università Campus Biomedico di Roma, che ci parlerà della resilienza delle piante alimentari e ricadute sul loro valore nutrizionale e poi con la professoressa Laura Dugo, associato di Chimica degli Alimenti dell'Università Campus Biomedico di Roma, con cui parleremo di a tavola con la pandemia, i cambiamenti indotti sullo stile alimentare. Adesso la parola a Sara Cimini. Allora appunto oggi parleremo della resilienza, la resilienza dei sistemi agricoli, una resilienza che in un contesto di cambiamenti climatici garantisce il raggiungimento della sicurezza alimentare. Come sappiamo è necessario accumulare conoscenza scientifica per capire dove stiamo andando. Cosa significa ciò? Significa che investire sulla conoscenza e sul sapere è una necessità imprescindibile per avere una previsione del nostro percorso e quindi di investire su noi stessi, sulla nostra istruzione, per poter di conseguenza garantire la sopravvivenza del genere umano. E i cambiamenti climatici, come sappiamo, sono dovuti ad un incremento dei gas serra generati, immessi nell'atmosfera a causa di attività quale l'estrazione di combustibili fossili, attività industriali e industrie elettriche, manifatturiere, gli allevamenti, i trasporti, ovviamente anche la deforestazione. Questi sono tutti i fattori, tutti elementi, tutte attività di natura antropica che incidono determinando un aumento della concentrazione dei gas serra. E questo è noto che ha un impatto sulla qualità di ciò che mangiamo. Quindi partendo proprio da questo, capire ciò che mangiamo, ciò che è necessario per noi ogni giorno assumere in una dieta equilibrata per far sì che ci sia garantita l'assunzione di nutrienti necessari a crescere e ad avere un buono stato di salute. E la piramide alimentare che possiamo qui vedere cosa ci dice? Che ogni giorno è necessaria l'assunzione di carboidrati, è necessaria l'assunzione di vitamine, di minerali e di proteine. Un adeguato fabbisogno di questi elementi è fondamentale per far sì che ci sia una crescita e uno stato di salute garantito. Tutto questo viene minacciato da un punto di vista quantitativo e qualitativo dai cambiamenti climatici e quindi da quell'aumento dei gas serra, tra cui sicuramente tutti abbiamo sentito parlare dell'aumento della concentrazione atmosferica della nitride carbonica. sappiamo perfettamente che dall'inizio della seconda rivoluzione industriale si è avuto un aumento della concentrazione della CO2 da una concentrazione di 200 parti per milione alle 400 oltre 410 parti per milione odierne e questa concentrazione è in continuo accrescimento e tutto questo ha un impatto sulla qualità e la quantità di ciò che viene prodotto annualmente e quindi è una minaccia per il raggiungimento della sicurezza alimentare. Sicurezza alimentare che deve essere intesa nelle sue quattro accezioni. Disponibilità di cibo e quindi garantire una produzione, una conservazione, una commercializzazione di cibo. Un accesso per tutti in tutte le parti del mondo e quindi tenendo in considerazione quelli che sono gli aspetti economici e ovviamente di accesso fisico al cibo per tutti. Di utilizzo corretto e quindi un adeguato bilanciamento tra macro e micronutrienti nonché ovviamente garantire le condizioni igienico sanitarie adeguate e la stabilità nel tempo di questi tre parametri indicati. Il raggiungimento di questi quattro parametri garantisce appunto il raggiungimento di una sicurezza alimentare. Sicurezza che è essenziale per il soddascacimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nello specifico del secondo obiettivo dello sviluppo sostenibile che consiste appunto nel sconfiggere la fame nel mondo. Ad oggi sappiamo che circa 820 milioni di persone non hanno accesso a un quantitativo adeguato di cibo sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi si parla anche di fame nascosta e dobbiamo considerare quindi che è necessario aumentare la produttività agricola e la qualità del cibo che mangiamo, che viene prodotto per poter sfamare i 9-10 miliardi di persone che popoleranno la pianeta entro il 2050. I cambiamenti climatici cosa comportano, in cosa consistono? Sicuramente un aumento della concentrazione della temperatura eh della superficie terrestre, si è registrato un aumento di circa un grado e mezzo dall'epoca preindustriale e un cambiamento dei modelli delle precipitazioni. Non c'è solo un progressivo cambiamento di questi due parametri, dovuto appunto all'innalzamento della concentrazione di gas serra, ma anche un aumento della frequenza di climatici climatici avversi, ondate di caldo, inondazioni eh periodi di siccità estrema. Questi sono tutti eventi che comportano una eh un deficit a livello di produttività agricola. e anche, come accennavo prima, un'alterazione delle componenti qualitative del cibo di cui noi ci nutriamo. E quindi un aumento del contenuto di carboidrati da un lato, ma dall'altro una diminuzione del contenuto di proteine, di vitamine e di minerali. Come possiamo vedere, quasi tutti i minerali sono affetti, subiscono un'influenza negativa dall'aumento della nitride carbonica nell'atmosfera. E come sappiamo che questo è un problema? Ce lo dicono gli studi in campo, i dati sperimentali di laboratorio. Qui ho riportato un lavoro che appunto mostra come il riso coltivato in medesimi appezzamenti, quindi esposto alle stesse condizioni di composizione del suolo, eh temperatura, irrigazione, ehm ha sostanzialmente ehm l'unica variazione che viene del suo apportata è una variazione della concentrazione della CO2. Sono state utilizzate diciotto diverse varietà di riso, quindi sottoposte a diverse concentrazioni di CO2 e da questo studio sono emerse due informazioni fondamentali. Una prima informazione importantissima che l'aumentata concentrazione di CO2 porta effettivamente a una riduzione dei parametri nutrizionali che abbiamo visto. E un altro aspetto fondamentale di questo lavoro fa emergere come la biodiversità sia una risorsa fondamentale, perché dalle diciotto diverse varietà di riso si è visto come non tutte rispondono nello stesso modo all'evento avverso. Quindi la tutela della biodiversità è un aspetto fondamentale perché deve essere vista come una risorsa genetica insieme all'aumento della conoscenza per migliorare la capacità che è il sistema agricolo di rispondere ai cambiamenti climatici, quindi di muoversi verso un concetto di resilienza del sistema, capacità di adattamento ai cambiamenti che si oppone all'insicurezza alimentare e quindi alla vulnerabilità. E quello che facciamo al campus è proprio studiare questo. Quindi studiamo per diverse varietà di riso, per diverse varietà di altre piante che hanno un interesse alimentare, quali sono i meccanismi molecolari che garantiscono una maggiore o una minore tolleranza a diversi cambiamenti avversi. E quindi che cosa crediamo? Crediamo che il progresso tecnologico, la selezione di piante resilienti, la biofortificazione sono tutti aspetti che devono convergere per poter garantire la resilienza degli agroecosistemi per il raggiungimento e il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Grazie Sara Cimini per questo interessante spunto di riflessione che sicuramente darà vita a molte domande dopo la chiusura di questa quinta sezione della nostra notte dei ricercatori dell'Università Campus Biomedico di Roma. Adesso passiamo la parola alla professoressa Laura Dugo sul tema di a tavola con la pandemia, i cambiamenti indotti sullo stile alimentare. Grazie, buonasera a tutti. Sicuramente il tema della giornata odierna è stato la resilienza. In ambito di resilienza non possiamo non menzionare, non possiamo dimenticare quanto la filiera agroalimentare nel tempo del covid si sia dimostrata più che mai resiliente. Infatti non si è mai fermata, ha continuato a garantire l'approvvigionamento di generi di prima necessità alla popolazione, ha garantito appunto la distribuzione del cibo e il cibo ha non soltanto un enorme valore sociale che si è semmai anche rafforzato durante le prime fasi della pandemia, ma il cibo rappresenta anche un fattore emotivo. I consumatori si sono rifugiati in moltissime forme di conforto anche provviste dal cibo. Hanno modificato il loro modo di fare la spesa, hanno modificato la modalità di preparazione dei pasti, hanno modificato anche la modalità con cui i pasti vengono consumati. Possiamo identificare in questo contesto delle nuove figure di eroe, gli eroi del cibo che accanto a tutti gli operatori sanitari non si sono mai fermati, hanno continuato a lavorare affrontando enormi difficoltà date dalla pandemia globale e hanno appunto garantito il servizio di approvvigionamento del cibo a tutta la popolazione. A volte anche dovendosi reinventare il loro lavoro, dimostrando appunto una grandissima resilienza, una grandissima creatività e fantasia. La pandemia ci ha costretto a casa. Ovviamente il lockdown è ancora un vivo ricordo per tutti noi. La casa è diventata non soltanto un rifugio dal contagio, ma è diventata anche il nostro ufficio, la scuola per i nostri figli, è diventato il nostro ristorante, il nostro bar, è diventato praticamente un luogo dove abbiamo trascorso la totalità della nostra vita per un periodo significativo di tempo. E questo ha portato ovviamente a una riscoperta di alcuni valori che probabilmente erano andati persi a causa della frenesia della vita appunto fuori casa che contraddistingueva la nostra vita prima del covid e ci ha anche portato alla scoperta di alcune forme di aggregazione virtuale che sicuramente erano in crescita anche già negli scorsi anni, ma che hanno visto una grandissima spinta sull'onda appunto della pandemia globale. Ma in effetti come abbiamo fatto e come in parte continuiamo a fare la spesa ai tempi del covid-19? Moltissimi studi diciamo che sono stati pubblicati recentemente hanno investigato le abitudini economiche, le abitudini alimentari degli italiani e anche altri vari aspetti della nostra realtà socioeconomica per capire appunto come siano cambiate le nostre abitudini in questo periodo così particolare. Questo studio in particolare portato avanti dalla DEXA è emerso che il 46% degli intervistati ha dichiarato di aver cambiato sostanzialmente il contenuto del proprio carrello alimentare durante il lockdown. Che cosa è cambiato in realtà? È cambiato innanzitutto il luogo dove abbiamo fatto la spesa in poche parole perché c'è stato un po' un ribaltamento dei luoghi tipici che erano frequentati maggiormente in precedenza con un abbassamento significativo della frequentazione degli ipermercati e con una riscoperta notevole dei piccoli centri, dei piccoli negozi locali che sono stati una risorsa significativa è molto preziosa soprattutto per i piccoli centri proprio a causa della restrizione molto forte alla nostra mobilità durante il lockdown e anche ovviamente ci ricordiamo tutti le grosse file fuori dai centri commerciali e quindi la difficoltà oggettiva ad organizzarsi proprio in termini pratici per fare la spesa. Abbiamo fatto la spesa meno spesso ma facendo delle spese più voluminose proprio per cercare di ottimizzare il momento stesso degli acquisti. Che cosa abbiamo comprato? In realtà i consumi sono aumentati per tutti i generi alimentari non soltanto come si è realizzato nelle primissime settimane di lockdown per i generi di di con una lunga conservazione sull'onda diciamo della paura di restare con la dispensa vuota ma anche per tutti gli alimenti freschi. Forte anche il fatto che nella nostra cultura gastronomica rimane un forte legame tra gli alimenti freschi, la frutta e la verdura e un buono stato di salute. Nello specifico è aumentato tantissimo il consumo di farine, lieviti, zucchero e tutte le ingredientistiche per la benificazione e per la produzione di dolci casalinga e questo ce lo ricordiamo bene perché alcuni di questi generi alimentari sono stati per un certo periodo addirittura introvabili sugli scaffali dei supermercati. quindi questo sicuramente ha fotografato bene una certa tendenza anche in termini gastronomici e di preparazioni alimentari casalinghe e ha aumentato il consumo di tutti gli alimenti a lunga conservazione e dei surgelati ma la cosa interessante è che gli italiani in quel momento così particolare si sono indirizzati soprattutto nella scelta di prodotti italiani proprio per sostenere l'economia nazionale si sono orientati sulla scelta di prodotti dalla filiera corta, locali e soprattutto ha scelto di avere una dieta più sana e quindi ha scelto degli alimenti che nell'immaginario collettivo sono collegati a un beneficio sullo stato di salute. quindi il lockdown ha accelerato moltissimo quello che era un trend già in crescita negli scorsi anni cioè quello dell'approvvigionamento attraverso canali di e-commerce cioè lo shop online fondamentalmente anche per la spesa alimentare quindi la consegna a domicilio della spesa è diventata quasi un bene di lusso perché era impossibile trovare uno solotto di consegna per i principali marchi di vendita ma questo ha portato anche, diciamo che questo è un altro segno di resilienza anche della realtà italiana anche piccole realtà locali si sono organizzate in brevissimo tempo organizzando proprio delle consegne nelle immediate vicinanze di prodotti locali organizzandosi con dei siti internet nati proprio sul momento o addirittura con chat whatsapp di quartiere e questo è stato anche molto utile per raggiungere in maniera capillare anche individui magari più deboli e più isolati proprio nel periodo più triste diciamo del lockdown quindi i piccoli negozi del vicinato hanno visto una grandissima crescita contro invece i grossi ipermercati i prezzi, diciamo che la segnalazione più evidente di crescita di prezzi va fatta per quelli che sono i cosiddetti commodities che in questo caso vanno intesi come prodotti per la pulizia e la disinfezione di superficie ambienti che naturalmente nelle primissime settimane dell'epidemia in Italia quindi tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo hanno visto un aumento esponenziale delle richieste e quindi un aumento anche dei prezzi che poi si sono aggiustati man mano che le settimane andavano avanti un recente rapporto della COP nel 2020 ha fatto un'importante fotografia delle abitudini alimentari degli italiani questo rapporto ci dice che gli italiani vogliono e devono risparmiare ma non vogliono farlo sul cibo per cui gli italiani preferiscono comprare ingredientistica di alta qualità e preparare i loro pasti a casa rinunciando invece a acquistare magari più costosi pasti pronti come avveniva in precedenza si delinea quindi una nuova tendenza delle abitudini alimentari italiane con una grande importanza che viene data all'utilizzo dei prodotti locali alla sostenibilità e quindi a un'attenzione importante per l'ambiente e per l'ottimizzazione delle risorse alla salute dell'uomo oltre che appunto quella dell'ambiente quindi l'acquisto di alimenti sani e alla preparazione casalinga queste probabilmente possono sembrare può sembrare quasi un ritorno al passato perché sembra quasi una riscoperta di valori antichi con però degli accenti nuovi dati dalla tecnologia e dall'aiuto diciamo del digitale in tutto questo dopo la pandemia la nostra vita sarà cambiata per sempre in parte sicuramente una parte diciamo del budget familiare che viene risparmiato anche nostro malgrado da attività che precedentemente venivano svolte fuori casa e nei viaggi che è sicuramente uno dei settori che soffre di più della crisi sanitaria vengono oggi reinvestite in attività che possono essere fatte a casa tra cui al primo posto diciamo troviamo nuovamente la cucina e la preparazione dei pasti il cook at home quindi rimane un trend presente anche nella fase 2 e probabilmente rimarrà presente nella nostra realtà anche post covid gli italiani preferiscono cucinare a casa perché è più sano perché è più economico perché hanno riscoperto alcuni valori della famiglia e perché no si intrattengono anche i bambini che sono costretti in molti casi a passare molto più tempo a casa con un aumento notevole anche di tutti gli aiuti che ci vengono appunto dalle innovazioni tecnologiche e infatti possiamo vedere che le vendite di robot da cucina di tutte le apparecchiature elettroniche di supporto alla cucina appunto hanno visto un incremento esponenziale delle vendite rispetto allo scorso anno l'attenzione degli italiani è oggi più che mai sul green sulla sostenibilità ambientale e questo è un dato che è in controtendenza rispetto al resto dell'Europa quindi delinea un'attenzione maggiore degli italiani rispetto agli europei sul tema della sostenibilità e indirizza anche molto bene le scelte che l'italiano fa sui canali di approvvigionamento dei beni di prima necessità essendo disposti a volte anche a spendere un pochino di più per dei marchi che pongano maggiore attenzione ai temi della sostenibilità in conclusione cosa possiamo dichiarare? è che la filiera agroalimentare ha dimostrato di essere molto forte noi come campus possiamo diciamo porre una grande attenzione nella formazione dei nostri laureati in scienze e tecnologie alimentari e gestione di filiera e pensiamo che una figura professionale di questo tipo possa avere una grandissima importanza in questo settore così importante per il nostro benessere e per la nostra economia nazionale ed è importantissimo che ci sia un forte background scientifico che ponga questo settore al riparo da modi, atteggiamenti alimentari non corretti e soprattutto dalla cattiva informazione in questo campo grazie 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 professoressa Dugo a proposito di cattiva informazione l'Università Campus Biomedico di Roma proprio questa settimana lo ricordo è la settimana della cucina italiana nel mondo ha fatto partire un ciclo di seminari sulla dieta alimentare nei settori dell'alimentazione, della nutrizione e dell'agroalimentare proprio perché siamo tutti convinti dell'importanza di investire sulla corretta informazione sulla buona comunicazione perché ed è il filo conduttore dei vostri due interventi abbiamo scoperto una cosa importante questa pandemia questa situazione che stiamo vivendo e ogni giorno speriamo di essere riusciti a lasciarci alle spalle ci ha insegnato una cosa importante il valore della consapevolezza e questo probabilmente è il nostro auspicio di portarcelo dietro anche nella nostra nuova normalità come citava nel suo intervento abbiamo alcune domande magari lo dico alle persone collegate mandatele visibili a tutti perché così tutti possono vedere che non ci siano delle repliche delle duplicazioni della domanda il lockdown sintetizzo una domanda un po' lunga durante i mesi del lockdown abbiamo visto che alcuni territori sono stati riconquistati anche da specie animali abbiamo visto una balenottera all'interno del Tamigi abbiamo visto le acque del mare e dei fiumi che sono ritornati quasi a nuova vita che cosa è successo nel settore vegetale invece per la flora? magari meno evidente ma più rilevante per quello che riguarda l'intervento che lei ha fatto prima sicuramente il lockdown ha messo il sistema agricolo a dura prova l'ha messo a dura prova perché ci sono stati i momenti appunto di lockdown vero dove i terreni sono stati parzialmente abbandonati in alcuni casi e in altri casi non si riusciva poi ad arrivare alla grande distribuzione quindi l'obiettivo che rimarca ancora di più questa situazione è quello di tutelare la biodiversità noi abbiamo circa 6.000 specie che sono coltivabili per la produzione di cibo di queste 6.000 specie soltanto 200 sono quelle che rappresentano maggiormente il mercato alimentare e di queste 200 sono solo 9 quelle che vanno a costituire il 66% delle calorie del mercato alimentare e solo poche varietà di queste specie sono attualmente coltivate questa situazione di pandemia, questa situazione di lockdown che ha messo ulteriormente a prova il sistema agricolo ci deve insegnare a aumentare la diversità genetica delle specie che coltiviamo perché ci permetterà quindi di poter affrontare un cambiamento ammortizzando gli eventuali stress percepiti in maniera molto rapida la differenza tra una resistenza, una resilienza e una vulnerabilità è proprio questo cioè adattarsi al cambiamento e recuperare in breve tempo e quindi quello che ci deve insegnare è anche questo aumentare il numero di varietà che vengono utilizzate irrobustire il sistema agrario a tutti i livelli a livello di produzione ma anche a livello di stoccaggio e a livello di conservazione in maniera tale da poter in un secondo momento affrontare una situazione emergenziale con una capacità di risposta più breve Ecco, su questo ci scrivevano anche che molti giovani negli ultimi anni hanno imboccato la strada del ritorno all'agricoltura non solo in qualche modo con un romantico ritorno al passato ma applicando anche nuove modalità e nuove tecnologie per le coltivazioni anche per recuperare quelli che erano dei prodotti della terra di quel determinato territorio Assolutamente sì e è fondamentale quello che ha appena detto cioè l'introduzione di un progresso tecnologico perché i mezzi tradizionali non sono più al passo con la situazione attuale quindi vanno assolutamente tutelati e vanno reinventati con un progresso tecnologico che gli permette appunto di affrontare una situazione che può essere una pandemia che può essere un'alluvione, un periodo di siccità ma in maniera repentina, in maniera rapida e sicuramente i giovani hanno ancora di più questa capacità cioè la capacità di introdurre un progresso tecnologico su un sistema che funziona tradizionale ma che deve essere implementato Grazie Professoressa Dugo abbiamo visto anche dal suo intervento che ha suscitato numerose domande da parte dei ragazzi collegati a questa edizione della Notte Europea dei Ricercatori quanto siano cambiate o stiano cambiando anche stia cambiando il nostro rapporto con il cibo ha ricordato l'importanza della dieta mediterranea e di queste anche nuove modalità di quello che viene definito il delivery quindi anche l'interazione tra gli nuovi strumenti della logistica con quelli che sono dei ritrovati gusti o delle ritrovate attenzioni da parte dei cittadini e dei consumatori la dottoressa Cimini ha parlato e ha sottolineato il tema della resilienza per recuperare quello che era prima del periodo del lockdown adesso si parla sempre più spesso soprattutto per quanto riguarda i consumi di resilienza trasformativa dove ci vogliamo tornare su dove andremo quale sarà la nostra nuova normalità? a saperlo potrebbe essere una risposta diciamo che è la fotografia che si sta delineando negli ultimi tempi di parziale normalità in termini di appunto ancora siamo nel pieno purtroppo della pandemia ma parzialmente siamo tornati alle nostre attività quotidiane anche fuori casa come dicevo prima alcune abitudini che si sono rapidamente instaurate nel periodo più duro del lockdown permangono oggi e questo secondo me è anche frutto del fatto che agli italiani è sempre piaciuto vivere molto la casa è sempre piaciuto vivere la cucina cucinare a casa gioire delle proprie preparazioni alimentari il problema era che per una serie di motivi diversi dati appunto dalle nostre abitudini di vita non sempre questo era possibile per tutti quindi credo che chi ha riscoperto e chi ha riabbracciato l'obby della cucina non lo lascerà andare tanto presto e anzi si stanno delineando tutta una serie di trend di grande curiosità dell'italiano nei confronti di anche di nuovi generi di nuovi ingredienti di nuovi sapori non necessariamente allontanandosi dalla dieta mediterranea ma diciamo includendo nuovi aspetti anche salutistici dell'alimentazione e della gastronomia all'interno della propria dieta e questo è una cosa molto importante che potrebbe avere anche un impatto positivo sulla nostra salute in futuro Ricordiamo lo faceva la professoressa Duco nel suo intervento l'acquisto di robot da cucina ovvero di altri accessori e attrezzature per dilettarsi ai fornelli oggi è il famoso Black Friday vedremo a vale di questo Black Friday quanto la voce cucina avrà inciso nelle scelte d'acquisto delle persone soprattutto in rete torno dalla dottoressa Cimini a proposito delle coltivazioni tra virgolette di un po' di moda ci sono alcune coltivazioni pensiamo per esempio al melograno o ad altre coltivazioni che sono particolarmente ricercate da parte dei consumatori come hanno modificato anche alcune scelte in alcuni territori pensiamo per esempio alla pianura padana come il melograno abbia ripreso il posto di alcune coltivazioni abbastanza intensive ed estensive in quei territori ma ci sono anche altri prodotti come per esempio le bacche di goji che hanno trovato una nuova fortuna da parte di soprattutto di questi giovani coltivatori sicuramente è vero ci sono degli alimenti che vengono sempre più frequentemente valorizzati e ricercati il tutto parte da un aspetto che è la conoscenza quindi dagli studi di laboratorio studi di laboratorio che valorizzano questi alimenti che conferiscono loro che danno relativamente a questi alimenti delle informazioni informazioni sull'accumulo di particolari metaboliti che hanno un impatto sulla salute particolare contenuto di nutrienti con proprietà antiossidanti molecole con proprietà antiossidanti sono tutti aspetti questi che derivano da esperimenti di laboratorio l'arricchimento di informazioni su questi elementi li ha resi degli alimenti particolarmente allettanti particolarmente ricercati a livello del mercato e questo ha fatto sì che in alcune aree italiane laddove il clima ovviamente ne consentiva la produzione la crescita quindi la produzione del frutto e il consumo questo è avvenuto in risposta delle esigenze di mercato esigenze di mercato che però sottolineano quanto sia importante aumentare la conoscenza su piante di interesse alimentare perché molto spesso abbiamo visto prima come è noto i cambiamenti climatici portano a un aumento del contenuto di carboidrati al contempo una riduzione delle proteine e di minerali o anche vitamine vitamine del gruppo B ad esempio come l'acido folico e sempre questi stessi studi sulle piante alimentari mostrano invece altri dati assolutamente interessanti su questi nuovi alimenti la moringa è un altro di questi che adesso viene molto molto utilizzata molto citata ed è straricertata e quindi sono tutte coltivazioni che vengono adottate da diciamo dal comparto agrario italiano perché ce n'è richiesta a livello di mercato e nel suo intervento lei ha parlato anche in maniera molto suggestiva del tema della insicurezza alimentare in genere noi siamo portati a considerare la sicurezza alimentare come un valore assoluto l'insicurezza alimentare ci viene anche dai lunghi viaggi che casomai fanno questi prodotti un po' esotici per arrivare sulle nostre tavole spesso portando con sé degli elementi che non sono propriamente un tocca sana per la nostra salute in questo caso queste scelte di mercato e torno per esempio sulle bacche di goji consentono il consumo di un prodotto fresco in luogo di bacche essiccate che devono attraversare di fatto il mondo per arrivare sulle nostre tavole l'insicurezza alimentare è quella che in parte viviamo oggi non tutte le persone in qualunque momento in tutte le parti del mondo hanno accesso al cibo non solo hanno accesso al cibo a livello quantitativo un quantitativo necessario per garantire appunto la crescita e un buono stato di salute ma anche un altro aspetto fondamentale è che il cibo deve essere buono da un punto di vista come dicevamo qualitativo che non è soltanto un discorso di nutrienti ma ma anche di eventuali parassiti che possono in alcuni casi andare a ulteriormente peggiorare la composizione nutrizionale di questi e quindi anche la diffusione di patologie di malattie ovviamente vegetali che portano a una riduzione della produttività agricola è un altro aspetto che è correlato ai cambiamenti climatici si è visto come tantissimi parassiti e i vettori virali proliferano più facilmente con i cambiamenti a cui stiamo assistendo e di conseguenza tutta la vegetazione che è suscettibile a quell'organismo patogeno ha una produzione che affetta negativamente e anche le condizioni igienico-sanitarie della distribuzione di questi alimenti ne risento ulteriormente quindi l'insicurezza alimentare a cui facevo riferimento sottolinea la vulnerabilità del sistema che è quella a cui noi con tutti gli strumenti tecnologici e informativi che abbiamo dobbiamo contrapporre perfetto grazie professoressa professoressa Dugo sicurezza alimentare e sicurezza delle persone anche nel consumo dei propri pasti quindi mangiare da quello che abbiamo ascoltato mangiare italiano mangiare stagionale mangiare prodotti il più possibile legati a una filiera corta lunedì abbiamo celebrato i dieci anni della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'UNESCO però abbiamo anche registrato che nel periodo del lockdown c'è stato un incremento per il 44% dei cittadini del proprio peso corporeo anche in maniera abbastanza considerevole un tema che forse non abbiamo toccato in tutta questa euforia da ritorno ai fornelli e parliamo anche di dosi esatto sì questo è assolutamente vero lo stravolgimento delle nostre abitudini di vita ci ha portato a cucinare di più muoverci di meno e mangiare di più per cui il peso corporeo sicuramente per moltissimi è aumentato c'è da segnalare però che in realtà alcuni studi hanno dimostrato che i soggetti che conducevano già uno stile di vita attivo prima della pandemia prima del lockdown in realtà non hanno modificato di molto le proprie abitudini le hanno mantenute e semmai ancora migliorate grazie al tempo aggiuntivo diciamo a disposizione da dedicare all'allenamento per cui diciamo si può dedurre da questo che probabilmente c'è quella fascia di popolazione che si cura meno e che ha continuato a curarsi meno anche durante il lockdown ed è probabilmente quella a cui bisognerebbe rivolgersi di più per cercare appunto di correggere questo atteggiamento sbagliato nei confronti del cibo che spesso e volentieri viene vissuto come un rifugio e un comfort dalle paure anche fisiologiche normalissime che stiamo tutti vivendo in questo particolare periodo storico sicuramente la dieta mediterranea è per definizione sostenibile per definizione sceglie prodotti locali ed è sicuramente stato dimostrato in innumerevoli studi scientifici che rappresenta una scelta assolutamente sana e sostenibile per il nostro stile di vita non va però allargato troppo il concetto di dieta mediterranea a qualsiasi alimento o preparazione alimentare che venga appunto preparato all'interno del bacino del Mediterraneo perché va invece posta un'attenzione molto grande alla scelta delle materie prime alla composizione dei pasti e soprattutto alla loro frugalità che è una parola che oggi probabilmente non accogliamo molto bene perché preferiamo appunto rifugiarci in un benessere gastronomico ma purtroppo la nostra salute passa anche attraverso una scelta molto più attenta della composizione dei nostri pasti grazie il messaggio che ci portiamo a casa per questo per questa sessione della notte dei ricercatori dell'Università Campus Biomedico di Roma è badiamo al siamo più consapevoli di quello che mettiamo nel piatto affinché venga dalle nostre coltivazioni in maniera sicura un filiere più corti a proposito di filiere i professionisti e i manager delle filiere alimentari sono particolarmente ricercati dal dal mercato e questo può essere una buona notizia per i tanti giovani che stanno decidendo che cosa che cosa fare del proprio futuro la dieta mediterranea è l'emblema nel mondo anche di uno stile di vita non è un solo una dieta ma è una via italiana al al mangiare bene al vivere bene e le filiere quindi tutti i percorsi per arrivare dalla terra alla tavola sono dei contesti anche occupazionali dove veramente chi è interessato a diventare un manager di filiere alimentare può esprimersi al massimo adesso facciamo qualche minuto di break e ci rivediamo con Coding Girls con la professoressa Chiara Fanali e con un'iniziativa condotta insieme a Fondazione Mondo Digitale Grazie a tutti